Salve ragazzi da Opinione di Luzio Show! Qui abbiamo la bellissima marmellata giamaicana nuovo prodotto 100% originale guardate bene l'etichetta forse sono un po con la telecamera webcam un pochettino cieco questa viene direttamente dalla giamaica guardate bene perché la mia faccia ormai la conoscete mettiamo il prodotto così che lo vede meglio la mia webcam ma forse si sposto il computer ce la faccio meglio mi viene il mal di testa e sono ecco ce l'ho fatta dopo 35 secondi la walker smooth jamaica yet penetrerà i mercati e sfonderà la marmellata più di quella americana più di quella europea più di quella italiana cercatela dappertutto la troverete in tutti i scaffalature ovviamente nelle ipercili per il pur magia costupore volete leggere gli ingredienti va bene se vi faccio leggere gli ingredienti di questa grandissima marmellata eccoli qua guardate un po' roba grossa guardate che roba pepper sugar clear guarda che roba citrasid vedi che roba buona guardate che roba del 2016 scada addirittura due anni ve può durare la scadenza ecco qua opinione di riuscire la ribalta con la nuova marmellata jamaicana unica del mondo più rara che mai della porta a casa vostra solo per i 99 centesimi da un marinaio me la offre a gratis spese di trasporto a zero arrivederci ragazzi con un opinione di tutti i show e la sua nicottina foreman allora c'è